Prosegue la collaborazione tra il Museo Regionale di Scienze Naturali e il Consiglio regionale con la terza edizione di Collezioni Minime a Palazzo Lascaris, piccola esposizione di pubblicazioni e reperti naturalistici sistemati in due vetrine poste all'ingresso della sede del Consiglio regionale. Il quarto appuntamento del 2016 è con la sezione Zoologia, con l'esposizione di due esemplari di scinco gigante di capoverde, una specie ritenuta estinta all'inizio del Novecento.